Bene, vuoi cominciare? Proviamo qualcosa di diverso. Non puoi curare qualcosa di cui non hai il coraggio di parlare ad alta voce. Dille cose che hai paura di dire. Dille ad alta voce, non importa quali sono o quanto sono brutti. Che cosa hai fatto? Che cosa hai fatto? Che cosa hai fatto? Grazie per la visione